Buonasera e benvenuti al Diario di Papa Francesco, benvenuto padre Alessandro Motti, missionario del Pime, Pontificio Istituto Mistioni Estere. Ieri ha incontrato insieme ad altri missionari Papa Francesco, ne parleremo, ma parliamo prima di tutto dell'udienza di oggi. Il Papa ha continuato le catechesi sugli atti degli apostoli e si è formato in particolare su un episodio, quello che vede protagonista l'Apostolo Filippo che incontra un angelo che gli dice di andare sulla strada che va da Gerusalemme a Gaza perché lì c'è un uomo che in qualche modo lo attende, un funzionario della regina di Etiopia che sta, che ha le prese con un brano del profeta Esaia che non capisce. Filippo fa la strada che l'angelo gli ha suggerito, gli spiega alla luce della resurrezione, del sacrificio di Gesù Cristo, gli spiega quel passo e il funzionario si converte. Il resto del racconto lo continua Papa Francesco. Finalmente l'Etiopio riconosce Cristo e chiede il Battessimo e professa la fede nel Signore Gesù. È bello questo racconto, ma chi ha spinto Filippo ad andare al deserto per incontrare quest'uomo? Chi ha spinto Filippo ad accostarsi alla carrozza? C'è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è il protagonista dell'Evangelizzazione. Dopo aver fatto incontrare l'Etiopio con il Risorto, l'Etiopio incontra Gesù il Risorto perché capisce quella professia. Filippo scompare. Lo Spirito li prende e lo invia a fare un'altra cosa. Ho detto che il protagonista dell'Evangelizzazione è lo Spirito Santo. E qual è il segno che tu cristiano o cristiana sei un evangelizzatore? La gioia. Anche nel martirio. E Filippo pieno di gioia. Andrò in un'altra parte a predicare il Vangelo. Chi è il protagonista della tua missione? Che cosa ha fatto scattare in te la vocazione di diventare missionario? Perché qui sentiamo Filippo, il protagonista è lo Spirito Santo, però lo Spirito Santo arriva sotto forma di angelo. Non sappiamo se è un fatto effettivamente concreto o è un'immagine che viene usata dagli atti degli Apostoli. Credo che però tu un angelo in carne ed ossa non l'hai incontrato all'origine della tua vocazione. No, un angelo in carne ed ossa non l'ho incontrato, però ho incontrato testimoni della fede, testimoni della missione, che sono partiti dalla mia famiglia, sono partiti dalle figure di missione che c'erano all'interno della mia famiglia. La cugina della mia nonna è stata per tanti anni missionaria in Africa ed è passata per i tanti incontri fatti all'interno del mio percorso di crescita, nel mio percorso di formazione. E passa anche da quell'incontro con la parola, che è quell'incontro che sa guidare, in cui il Signore tocca il cuore e ci fa intuire qual è quel prossimo passo che dobbiamo fare. Insomma, è un po' quello spirito che agisce, quel filo rosso che lega tutti i vari passi, tutti i vari step della nostra vita. Che c'entra la missione con la gioia? È un concetto che abbiamo sentito anche sottolineato in maniera forte. Il Papa parla sempre di questa gioia del Vangelo. Uno pensa ai missionari, li vede per la verità, persone di gioia, sorridenti, però li vede soprattutto come persone che vanno a affrontare l'ignoto, come in un certo senso anche persone d'avventura e persone che sfidano anche il pericolo. Molti missionari donano la vita in missione. Sì, questo è vero, però è quella gioia che appunto riparte un po' dall'incontro col Signore e un po' riparte dai doni che il Signore mette sulla nostra vita. All'inizio della mia vocazione ci sta un po' una frase che disse un predicatore durante gli esercizi, che disse un po' qualsiasi cosa il Signore ti chiede non lo fa per farti un dispetto, lo fa per renderti felice. E penso che questa sia un po' la strada in cui uno davvero riconosce tutte le cose che vive un po' come dono, che sa ritrovare quella presenza del Signore, che accompagna o che ridà la forza di ripartire, che ridà la forza di ricominciare sempre con... Però tu vai in posti terribili, vai in posti dove la gente muore di fame, vai in posti dove c'è la guerra. Sei stato per esempio nelle Filippine e in particolare poi andavi nelle carceri delle Filippine. Che c'entra la gioia con un luogo come questo? Era un luogo in realtà dove la gioia era tanta perché innanzitutto c'erano persone e c'erano persone con una voglia di riscatto. C'erano andare a incontrare amici che ti stavano aspettando, c'erano relazioni che nascevano. C'era vedere un po' come l'incontro col Vangelo ha cambiato proprio anche il loro modo di vivere la realtà del carcere, che è una realtà dura perché nessuno ti aiuta. Tanti magari sono stati anche abbandonati dalle famiglie, dai parenti e quindi si ritrovano soli. Riscoprire quella solidarietà, quella carità l'uno nell'altro, riscoprire di poter risolvere i conflitti in maniera diversa, magari col dialogo e non con le mani come erano abituati a fare, fa sì che si crei un qualcosa di nuovo. È un po' sempre la logica della risurrezione che non è riavvolgere il nastro ma è ripartire con un passo nuovo, con un qualcosa di diverso che è proiettato verso la gioia, è proiettato verso la speranza e è proiettato sempre verso l'incontro col Signore. Ti voglio far vedere una fotografia della giornata di ieri che vede protagonisti ecco te e il Papa. Che cosa è successo ieri a San Pietro? Tu sei stato uno dei dieci missionari che hanno ricevuto che cosa? Abbiamo ricevuto il crocifisso che è il simbolo appunto che ci caratterizza noi missionari nel momento in cui partiamo. Io ti avevo detto di portare, ma tu pensavo l'avessi dimenticato nella borsa che hai lasciato No, no, ce l'ho in tasca. Che è un crocifisso particolare. Che è un crocifisso particolare perché... Mettilo così, così lo facciamo vedere a tutti. Non so se la telecamera riesce a inquadrarlo. Eccolo qua. Che è un crocifisso particolare perché è un crocifisso fatto col legno delle barche di Lampedusa, con le barche dei migranti ed è carica ancora di più di responsabilità, no? Proprio perché questo legno è un legno che oggi parla a noi chiaramente di morte, di una morte concreta. Parla di una croce che è una croce vera. Però dall'altra parte, come tutte le croci, non dobbiamo mai dimenticarci che dietro splende la luce della risurrezione, no? E quindi è un po' proprio un impegno, una responsabilità ad andare incontro anche ad andare incontro agli ultimi, ad andare incontro a chi appunto non ha più niente. E tu andrai in Cambogia a fine anno, sostanzialmente inizio. Dopo Natale si parte. in una comunità dove i cattolici sono una minoranza assoluta. Ma andiamo ad ascoltare quello che il Papa ha detto a tutti voi missionari nei vespri di ieri che hanno aperto il mese straordinario della missione. Il Papa ha parlato tra l'altro del peccato di omissione, come contrario della missione. Sentiamo. Si diventa missionari vivendo da testimoni, testimoniando la vita con la vita di conoscere Gesù. La vita chi parla. Testimone è la parola chiave, una parola che ha la stessa radice di senso di martire. E i martiri sono i primi testimoni della fede, non a parole, ma con la vita. Sanno che la fede non è propaganda o proselitismo, è dono di vita. Vivono diffondendo pace e gioia, amando tutti, anche i nemici, per amore di Gesù. San Alberto Ortado diceva, è bene non fare del male, ma è malo non fare del bene. Questo è il peccato di omissione. E questo può essere il peccato di una vita intera, perché abbiamo ricevuto la vita non per sotterrarla, ma per metterla in gioco. Non per trattenerla, ma per donarla. Chi sta con Gesù sa che si ha quello che si dà. Si possiede quello che si donna. Il segreto per possedere la vita è donarla. Vivere di omissione è rinegare la nostra vocazione. La omissione è il contrario alla missione. Ma mi colpisce una cosa delle parole del Papa, perché lui dice non si fa il missionario, si è missionario. Però poi subito dopo dice, attenzione però, se non fate del bene è peccato. Quindi, no, cioè, alla fine si è missionario o si fa il missionario? Beh, innanzitutto si è missionario. E si è missionario perché uno ha qualcosa di bello, penso, da testimoniare. E questo qualcosa di bello nasce sempre un po' da quell'incontro col Signore. A me piace usare l'immagine spesso di quella scheggio di risurrezione. Nessuno era presente al momento della risurrezione. Però ciascuno di noi è testimone di quella scheggia di risurrezione che gli appartiene, che è quel momento di incontro vero col Signore, quel momento in cui il Signore ci ha preso nella nostra umanità, ci ha preso magari anche nelle nostre ferite, nel nostro peccato, un po' nel fango che ci sta dentro di noi, e ci ha dato il coraggio di risollevarci, ci ha dato il coraggio di ripartire, ci ha rimesso in moto. E noi di questo ne siamo testimoni. Siamo quindi testimoni dell'esperienza fatta... Di quello che è successo a noi. Di quello che è successo a noi. Quella scheggia di risurrezione che ha toccato a noi. Che ha toccato il nostro cuore. E siamo responsabili di testimoniarla. Se noi non la testimoniamo, appunto, pecchiamo un po' di omissione, come diceva anche il Papa. Perché quel bene, quell'esperienza che noi possiamo dire agli altri, lo possiamo fare solo noi. E tornando un po' al discorso di prima, penso che questo sia proprio poi la fonte anche della gioia. Nel momento in cui non lo facciamo, ci chiudiamo su noi stessi e ci porta questo a una vita triste. Senti, tu ti stai preparando per andare in Cambogia. So che i primi tre anni di missione saranno tre anni in cui prevalentemente ti dedicherai allo studio della lingua che deve essere pure piuttosto complicato. Però il Papa dice questa cosa che sembra... Tutto è il contrario di una preparazione scientifica. Quando diceva che il missionario è uno che va a diffondere pace e gioia. E a me viene da dire che il missionario è uno che prima di tutto va a stare. E per prepararsi a questo stare ha bisogno di incontrare quel popolo, quella cultura, ma ancora prima ha bisogno di incontrare se stesso, ha bisogno di lasciarsi incontrare dal Signore. Se manca questo passaggio, mancano un po' le fondamenta. Penso un po' anche in questi anni in cui ho aiutato alcuni giovani a partire per esperienze brevi di missione di un mese durante l'estate. Ciò che per noi è importante è proprio preparare loro stessi, preparare la loro anima, la loro umanità. Quindi uno si prepara tanto ma non va lì a realizzare un programma predefinito, o sì? Va là a lasciarsi guidare da quello che lo spirito gli suggerirà in quel momento. Non partiamo con degli schemi e con dei progetti già preconfezionati. E con che sentimento parti? Parto con un sentimento di gioia. So che la mia aspetta casa e quindi che è una casa nuova, resta casa quella che c'è qua in Italia, ma c'è qualcosa di nuovo e di bello da incontrare e da scoprire. E quello appunto sarà tutta una novità. Facciamo una piccolissima pausa. Al ritorno parleremo di un missionario speciale, un missionario di 800 anni fa, San Francesco d'Assisi. Andremo anche a Gerusalemme, un po' sulle sue tracce di un viaggio fatto appunto 800 anni fa. A tra poco. Di nuovo in diretta, puntata quella di oggi dedicata alle missioni, insieme a un missionario, padre Alessandro Motti. Sì, ma adesso vogliamo parlarvi di una missione speciale fatta 800 anni fa da San Francesco, che in piena Quinta Crociata andò in Terra Santa ad incontrare il sultano Malik Kamille. A questa straordinaria missione è dedicato un convegno iniziato oggi a Gerusalemme, curato dalla custodia di Terra Santa, ma soprattutto una serie di incontri e di iniziative. Ci facciamo raccontare tutto dalla nostra corrispondente Alessandra Buzzetti, in diretta da Gerusalemme. Ciao Alessandra! Ciao Gennaro! E buonasera a tutti voi. Come dicevi, certamente sono proprio gli ultimi giorni di questo viaggio iniziato proprio anche sulle fonti per scoprire, soprattutto riscoprire questa avventurosa missione di San Francesco in Terra Santa. Sono proprio gli ultimi giorni di queste celebrazioni. Una missione avvenuta, come sappiamo, appunto nel 1219 che ha permesso la presenza ininterrotta e quella francescata è stata l'unica presenza ininterrotta qui in Terra Santa per 800 anni, a costo certamente anche di grandi sacrifici e anche di tanti martiri. Quindi per capire l'attualità, quindi non solo il passato, ma anche il presente della grande missione di San Francesco in Terra Santa e dell'incontro con il Sultano, abbiamo come ospite qui con noi padre Narciso Climas, che è missionario in Terra Santa da 31 anni e poi è anche uno storico e lui diciamo che è un po' l'anima con cui ha organizzato in questi quasi due anni convegni in tutto il mondo. Convegni che hanno poi voluto certamente mettere anche a fuoco il grande messaggio di questo incontro di Francesco e Sultano che è il dialogo oggi con l'Islam. E quindi padre Narciso la prima cosa che volevo chiederti è che cosa hai scoperto tu in questo viaggio durato due anni sulle fonti proprio dell'incontro a Damietta tra Francesco e Sultano. È stato scoperto proprio il coraggio incredibile di San Francesco, in mezzo alla guerra, alle crudeltà che ha visto a Damietta, comunque decide di andare a incontrare il Sultano sapendo che rischia la morte. Ostacolato da una parte dal Cardinal Pelaggio il quale aveva paura per la sua vita che non la perdesse e dall'altra parte il Sultano che viene ostacolato dai suoi consiglieri dicendo gli sente dire non incontrare questo uomo, comunque tutti e due rompono questi due ostacoli e si incontrano, si incontrano tutti e due e ne escono vivi, cioè soprattutto San Francesco ne esce vivo, torna al campo dei cruciati, diceva un indulto di poter visitare addirittura alla Terra Santa che sembrava una cosa impossibile e quell'esperienza del suo viaggio in Medio Oriente poi fruttifica attraverso la regola che scrisse, il sedicesimo capitolo della regola cosiddetta non bollata dove si parla espressamente ai frati di andare tra i saraceni, tra i infedeli a parlare del Vangelo. Quindi è una cosa straordinaria, è primo ordine in assoluto il quale inserisce nella sua regola un capitolo dedicato proprio alle missioni in questo senso qui. Quindi c'è la straordinarietà di questa visita, di questo incontro tra Francesco e Al-Malik al-Kamel, sultano, lì alle porte di Damietta nel 1219. Come dicevi, questo incontro con il sultano qui in qualche modo sarà un po' ripercorso domani in quello che è uno degli eventi più importanti di questi ultimi giorni di celebrazione che sarà la visita alla moschea di Al-Aqsa domani mattina e la delegazione francescana insieme anche al delegato pontificio che è qui da qualche giorno il Cardinal Sandri. Poi sarete ricevuti dal gran mufti e anche dal direttore che amministra sotto appunto l'autorità giordana proprio la spianata delle moschee. Spianata che è ben nota a tutti, spianata che è uno dei luoghi sicuramente più contesi qui della Terra Santa, spianata spesso anche teatro di violenza, ma noi per capire anche cosa si stanno aspettando i musulmani che domani incontreranno la delegazione francescana abbiamo incontrato il direttore proprio di questa fondazione che amministra la spianata delle moschee, quindi ascoltiamo che cosa ci ha detto. I cristiani sono i nostri vicini, viviamo, mangiamo e soffriamo insieme e per questo diamo loro il benvenuto. Il Vaticano rappresenta un potere religioso forte e diffuso in tutto il mondo e in occasione della visita nella moschee di Al-Aqsa si mostra l'unità tra di noi. Tre papi sono venuti qui e noi ne siamo grati. Daremo un benvenuto caloroso anche alle delegazioni di domani. Dall'ufficio dello sceico Al-Khatib è appena uscito il gran mufti di Gerusalemme per definire i dettagli e soprattutto i contenuti della visita di domani del Cardinal Sandri e dei frati della custodia di Terra Santa nella moschee di Al-Aqsa. Evento principale delle celebrazioni conclusive degli 800 anni dell'incontro tra San Francesco e Sultano. Evento delicato perché nella spianata delle moschee di Gerusalemme basta molto poco per infiammare gli animi. Luogo santo per gli ebrei perché qui sorgeva il Tempio distrutto da Tito, terzo luogo sacro dell'Islam che sotto la cupola d'oro venera la roccia dove Maometto sarebbe salito al cielo. Dal 1967 con l'occupazione di Gerusalemme Est da parte di Israele l'accesso alla spianata è controllato dall'esercito israeliano ad amministrarla all'interno El-Wakf, fondazione musulmana sotto l'autorità del re di Giordania di cui lo sceico Al-Khatib è direttore. Nel mio discorso di benvenuto parlerò della relazione speciale tra cristiani e musulmani in questa città santa da più di 1400 anni e dell'importante contributo che i francescani hanno dato negli ultimi otto secoli. Hanno ospedali, scuole e tante altre istituzioni a servizio della gente. Spero che in questo incontro abbia larga diffusione per raggiungere la pace, però Gerusalemme deve diventare la capitale di uno Stato palestinese. Il secondo discorso sarà quello del Gran Mufti, l'autorità religiosa sunnita di Gerusalemme al centro di non poche polemiche negli anni scorsi per le sue posizioni molto dure contro Israele e che nel febbraio scorso ha deciso di non partecipare all'incontro di Abu Dhabi con il Papa e il grande Imam di Al-Azhar, Al-Tayeb. Sarà il prefetto delle chiese orientali a parlare a nome della Santa Sede. Entrando lì si vuole come significare il senso religioso di Gerusalemme che è la città di tutte e tre le religioni monoteistiche e quindi auspicare con questa mia visita all'Axa anche una Gerusalemme futura che auspichi e che dia a tutti il luogo per poter servire e onorare Dio secondo la propria religione. Padre Narciso, in un flash sappiamo che Gerusalemme non è Damietta quindi qual è oggi il senso di questo dialogo con l'Isman prima di salutare i nostri telespettatori? La visita di San Francesco ha fatto vedere che il dialogo è possibile e che ci siamo ancora in Terra Santa vuol dire lo stesso che abbiamo perdurato, abbiamo seguito le orme del nostro fondatore vuol dire che è possibile stare in Terra Santa, vivere, dialogare attraverso le scuole e tutte le opere che sono state citate perché è la perla delle nostre missioni, la perla delle missioni francescane e la Terra Santa. Grazie mille a Padre Narciso e grazie anche a tutti voi e a presto. Grazie Alessandra, davvero a presto. Padre Alessandro, cosa si augura a un missionario che sta per partire come te? Come vi salutate voi? Buona missione, buon viaggio, che si dice? Buona missione. Nella speranza che ci siano altri che seguano e che vengano a trovarci. Allora, buona missione davvero Padre Alessandro. Noi ci rivediamo domani, sempre alle 17.30 Adesso il rosario in diretta da Lourdes. Buona serata. Coraggio, fratelli e sorelle, coraggio. Madre Chiesa, ritrova la tua fecondità nella gioia della missione. Grazie. Grazie. Grazie.